Sindaco, prosegue il percorso di cittadinanza attiva, questo rapporto di sinergia tra politica e scuola, due istituzioni che lavorano insieme? Sì, questa è una scommessa che noi già abbiamo sperimentato l'anno scorso e ritengo che ci sia molto interesse da parte dei ragazzi a partecipare all'attività così politica, sul vero senso della parola, di una comunità. Cioè quella di gestire i propri spazi, il proprio territorio, la propria comunità e quindi partecipare a dare i suggerimenti all'amministrazione comunale sui bisogni delle scuole, sui bisogni dei ragazzi, della comunità tutta. Noi con questa iniziativa puntiamo pure a sensibilizzare i ragazzi all'impegno civico e quindi ad attenzionare alcune problematiche che magari fanno parte del loro gioco ma nello stesso tempo li responsabilizzano verso l'essere cittadini attivi e non soltanto passivi. Proprio da oggi tu sei il baby sindaco di Castrofilippo, questa fascia che ti responsabilizza ovviamente a portare avanti iniziative, a stimolare l'amministrazione attiva nel risolvere i problemi. Io prometto che svolgerò con il massimo impegno il mio ingarico e spero di essere all'altezza. Senti hai ricevuto 45 voti e quindi un soffragio vero e proprio, questo vuol dire che i tuoi compagni hanno riposto in te fiducia? Sì hanno riposto in me fiducia perché sono d'esempio secondo me per loro e ho detto anche che ho fatto anche la mia compagna elettorale e ho detto che voglio migliorare il nostro paese dai nostri punti di vista. Ovviamente quindi sarete da stimolo all'amministrazione comunale? Sì consiglierò al sindaco e alla giunta comunale le proposte di noi ragazzi. Hai già in mente qualche proposta Flavio? Sì ad esempio mettere in miglior condizione i campetti sportivi del paese, aggiustare il tetto della scuola che è un po' franante e anche comprare nuove attrezzature scolastiche per la palestra della scuola media. Questo ruolo, questo incarico che ti è stato conferito dagli altri tuoi compagni di scuola, questo ovviamente ti responsabilizza, ti gratifica? Certo, innanzitutto dico grazie ai miei compagni per avermi votato, io cercherò di proporre nuove idee per questo paese per migliorarlo anche se è un paesino molto piccolo, speriamo di mettere in moto queste idee. Grazie a tutti!